Nel 2021 siamo al lavoro per fare pulizia al Lago delle Streghe, c'è il Presidente del Parco, c'è il Comune, ci sono gli A.B. di Baceno, ci sono gli operai del Parco, ci sono dei volontari del CAI di Borgomanero, i tecnici del Parco e procediamo di carabena per recuperare e mettere il più in ordine possibile questa meraviglia. Grazie a tutti.